Il primo Puntel 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 La rivale è con due parquetten da pescare, senza di niente la caccia su un autobus, ma in del vediamo un vegetino che vengono a tutti, come un busto di muros, le cui pepe, le cui pepe, le cui papus. Ma sono scusate, ma riche, ma soldate, su resta sotto quattordes mes, un facasotto con ti francese, e il me fiulino, e la suca seria alpine. Quando sono tornati, se senti guardati, le cui pepe, le cui pepe, le cui papus, sarei tutti russi, decontentezza, seri russi, passavano e si fermavano a tutti i tratti, ma sorridere, vengono, 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 diceva in tutti, che bel fiulino, che bel alpine, forse perché mi seri grande, il piccini, mi sono oma passavu burbuljus, le cui pepe, le cui pepe, mi cui papus.